Allora io vi ho messo una serie di miei modelli in modo tale che possiate iniziare ad avere una panoramica, vi ho messo in questa lezione anche dei video che è meglio che guardiate ovviamente per avere una idea a 360 gradi, per le solite ragioni che vi dico, per quanto possano essere modelli 3d la terza dimensione la percepite meglio se vi faccio un video e vi metto a girare i vari modelli, beh quindi per avere una panoramica come faccio, mi chiedo come faccio a vedere i reni, dove sono posti i reni, ok sono visceri addominali, benissimo ma non posso vederli se prima non tolgo di mezzo il fegato come vedete e se non tolgo di mezzo anche lo stomaco, togliamo di mezzo il fegato, togliamo di mezzo lo stomaco, ecco e togliamo di mezzo anche l'intestino in modo tale da poterli vedere ancora meglio, ecco qui vedete poi queste immagini le riprenderemo e ve ne farò vedere altri, mi raccomando, sappiate quali organi sono presenti anteriormente, quali posteriormente, quindi vi servono affinché voi possiate con l'osservazione descrivere l'andamento, la morfologia, l'anatomia macroscopica, i rapporti con gli altri organi e via dicendo. Quindi per il momento approfondiremo i due reni, l'uno vale l'altro per quanto riguarda l'anatomia macroscopica e microscopica, cambiano al massimo un po' le dimensioni e i rapporti con gli altri organi come poi vedremo. Allora, non vi spaventate di questo schizzetto che vi ho fatto, qui vi ho fatto poi un disegnino più, diciamo meno confusionario, quindi ve le spiegherò bene, vi spiegherò bene tutto ciò che dovrete sapere. Per il momento, ecco sappiate quello che vi ho detto, i reni sono organi pari, simmetrici, parinchematosi, ovviamente sono presenti a livello addominale, sono retroperitoneali, quindi posteriormente rispetto al peritoneo, ognuno di essi è rivestito da una capsula fibrosa densa e da... Allora, ovviamente il rene, come abbiamo visto anche per gli altri organi, presenta delle facce, vedete una faccia anteriore che è a contatto con tutta una serie di visceri, quindi i rapporti sono un attimino più complicati rispetto alla faccia posteriore che essenzialmente è a contatto con alcuni muscoli aponeurosi e abbiamo dei margini, ovviamente, poi un polo superiore, un polo inferiore, quello che vi dico per il rene destro è uguale al rene sinistro, l'anatomia macroscopica e microscopica è identica. Io vi ho messo dei numeretti molto importanti qui, in delle regioni differenti, poi come vi ho già detto vedete il pancreas, qui potete vedere come vi ho già detto il rene di destra che è anche il rapporto con il duodeno e con... Bene, vedete che muovendovi un po' il modellino riuscite a vedere anche, a percepire la profondità e vedete che i reni sono presenti posteriormente, vi ho detto, infatti, sono retroperitoneali. Guardate bene i rapporti che hanno con gli altri organi che vi ho descritto in precedenza, sono i principali rapporti che hanno... Poi tutto il resto lo dovrete conoscere, ma per il momento mi interessa che voi sappiate l'origine delle arterie renali. Quindi le arterie renali, l'arteria renale di destra, vedete che ha origine dall'arteria aorta discendente addominale e l'arteria renale di sinistra, appunto, hanno origine a questo livello qua. Vedete? E l'arteria renale di destra, quindi, entra a livello dell'ilo del rene di destra. Allora, cerchiamo di capire adesso, appunto, come vi dicevo, le unità funzionali del rene. Il nefrone è l'unità funzionale del rene, quello che filtra, dove avviene il processo di ultrafiltrazione glomerulare, comunque, in ogni caso, è dove poi, a livello dei tubuli renali, avvengono altri processi che qui non vi interessano, qui vi interessano gli aspetti anatomici, queste cose, da un punto di vista fisiologico, ne tratto vita, morte e miracoli nei minimi dettagli nel mio corso di fisiologia umana, quindi, se volete, richiedetemelo. Qui stiamo parlando di anatomia. Allora, qui vedete l'immagine che vi avevo messo in precedenza. La riconoscete norma e la sapete descrivere, se prendiamo una unità, una regione, dove è presente una piramide renale, con tutte le varie strutture che vi ho spiegato in precedenza, ecco, questa logica è valida poi da tutte le altre parti, ecco, prendiamo una regione, questa qua, e la ingrandiamo per vedere che cosa si vede, vedete, queste sono le arterie interlobulari che vi dicevo prima, le arterie interlobulari, e guardiamo bene il tutto, perché è proprio qui che sono presenti i glomeruli renali, a livello della regione corticale del rene trovate, i glomeruli renali. Allora, per farvi capire meglio vi ho messo dei numeretti, ok, facendovi anche un piccolo indice per ogni numeretto, così un piccolo elenco, così avete un po' per ogni numeretto le varie strutture. vediamo come è fatta questa capsula di Bauman, che vedete anche qui, anche qui vi ho messo i numeretti del nostro nefrone in linee generali, quindi vedete tubulo condorto prossimale, ansatinelle, tubulo condorto distale, dotto collettore, e via dicendo, vi ho già detto che il corpuscolo renale è rappresentato dal glomerulo renale più la capsula di Bauman, quindi questo, come vi ho già detto, e il glomerulo renale, state ben attenti, ecco, volevo dirvi prima un'altra cosa, prima di approfondire la capsula di Bauman come costituire, del glomerulo renale, state ben attenti, rappresenta anatomicamente una cosiddetta rete mirabile, in particolare è una rete mirabile arteriosa, vediamo che cosa significa. Anche in questa immagine che vi ho fatto potete vedere la regione corticale del rene, questa qui, che vi indico con laser. perché essenzialmente è molto simile a quello che vedete qui, eh, vedete parte della capsula di Bauman, il nostro glomerulo, il nostro glomerulo renale. Medesima logica in queste immagini che vi ho scattato ad altro ingrandimento, guardate qui, anche in questa immagine, anche in questa e in questa, questi delimitati da epitelio, come vedete.